ciao ragazzi ben ritrati a vostro perez allora vi dico non ho fatto live in tutto sto tempo e che vuol disastro da fare ho dovuto fare appunto i due subwoofer quelli nuovi non sono uscito neanche fare il video mentre ricostruivo perché le ho dovuto fare in due giorni in un orato tipo 5 ore al giorno su due sub in 10 ore fidatevi che sono stato velocissimo perché volevo portarlo a sagra e sono riuscito si sentiva da dio e i giorni prima invece sabato scorso domenica scorsa sono riuscito a fare il progetto quello super segreto che vi ho sempre parlato e ovvero l'impianto nuovo in macchina si sente che è una bomba atomica è la prima auto in italia ad avere i box avete sentito bene i box dei woofer non subwoofer woofer nella portiera eccola verrà tutto un attimo sistemato con la pelle sintetica eccetera per fare un'estetica molto più carina però vi assicuro tira delle bombe allucinanti sta cassa qua chiaramente delle bombe allucinanti sente da dio e tira parecchio l'unica cosa bisogna fare è un attimo mettere un processo audio che ho già ordinato e un attimo sistemare le vibrazioni all'interno della porta che all'esterno va bene cazzata però all'interno è un po di più difficile ma so già dove vibra e so già come risolvere risolverò magari i prossimi giorni poi vedremo poi vabbè non è che mi metto a ascoltare e basta per cui gli acuti la voce eccetera copre quei stupi non c'è neanche un cazzo però comunque lo sistemiamo perché voglio che sia perfetto e in più c'è anche un fischiettio molto 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 leggero ma proprio leggerissimo che nei twitter perché le twitter sono la cosa più sensibile a sto mondo e sentono l'alternatore anzi lo faccio sentire sempre se si sente sul lo sentite pure talmente basso che non dà fastidio anche perché la musica io non ascolto bassissima per cui non mi dà fastidio però sapere che c'è è una cosa che mi dà fastidio quello sì ma per mia fortuna ho trovato una roba in casa che non usavo e guarda caso è un antidisturbo per le auto radio bene detto questo fioi allora le live torneranno da mercoledì spero perché oltre che vedere dei disturbi ma penso di farlo magari sabato o boh quando cazzo mi capita adesso non ho voglia di fare il mio riposo sti giorni acqua non sono uscito da voi intendo vado a casa mi riposo sto anche un po con voi eccetera domani mi è impossibile perché devo andare al cinema e poi devo fare anche il secondo ripiano del bagagliaio bene ci vediamo mercoledì presumo ciao ciao raga